ah beh popolo di youtube io sono tierless rao e sono qui in compagnia di air and blaze ciao a tutti emerald ciao a tutti raga ciao a tutti ragazzi mi spingono a dice ciao metano e ulisse questa battuta è riciclata da me marci lo sai e sotto i ragazzi sul pc benvenuti in questo in questo in questa hc noi siamo il team blu e poi tanto blu non è perché siamo tipo celesti però vabbè colore strano se usiamo metano e a peter di tecnobroad ciao a tutti e niente iniziamo prendiamo subito la legna che è la meglio giusto per cominciare vabbè io ne ho già tanta perché prima facendo il test del lag ma sono dettagli i cheat proprio vabbè una crafting table tipo ce la facciamo subito sì dai la faccio io facciamo allora ragazzi qua se non sbaglio avevo già visto una caverna però intanto quindi faccio subito un piccone l'ho vista sì e c'era anche un pezzettino di ferro se non ho visto male ah perfetto e prendi anche un po di pietra così la pietra ecco qua se cado subito ok mamma mia allora io spero che tutti quanti voi conosciate la hc come funziona sì c'è molto uno scheletto perché c'è anche delle ossa non lo so ok prendi quello che troppo io ok la porta magari l'entrata della caverna così facciamo prima sì 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 eccola qua se tutto va illuminato quindi qualcuno che faccia la carbonella tipo qualcosa di simile ah sì però ci serve prima la fornace quindi sì sì vabbè intanto prendi la legna ecco per dire sì 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 appunto la crafting cosa sto facendo se non lo siete con i planks e non con gli stick grande ah ragazzi di legna prendiamone veramente tanta perché potete andare in caverna che dobbiamo avere tipo per la vita intera sì sì adesso faccio un'accetta e vado a prenderla che ottimo qua minimo sono quattro pezzi di ferro anzi cinque olle non abbiamo non c'è la tricapitator vero questa è una domanda molto triste io mi faccio già una spada così qua in caverna è tutto buio non si vede assolutamente nulla e c'è anche un cane e la cosa non mi piace non è che hai la luminosità bassa no no cioè si vede ma poco è per dire ok ho fatto una piccola ascia una piccola bello una piccola ascia io ho fatto una posizione tra il piccola e l'ascia io intanto faccio la fornace ragazzi eh così possiamo fare la carbonella ok la metto in caverna così almeno si illumina un pochettino dentro eh bravo io sto prendendo un sacco di legno quindi ecco bravo ho fatto intanto non è vero sto prendendo una pietra ma cosa no vabbè vabbè mamma mia ma questa gente io sono stato utile ho portato la crafting table da sopra a sotto attenzione che quale sforzo disumano proprio non ti chiederò mai più uno sforzo simile tranquillo ora vanno un attimo a controllare qui si riesco a cacciare qualcosa dai vediamo allora io guardo un po qua se si riesce ok no ragazzi qua scende ma non molto le frecce ci sono ma perché i mob sono morti perché c'è il cane c'è il lupo forse il lupo attacca i mob quindi non abbiamo già è vero abbiamo tre ossa ragazzi voglio subito prenderlo con tre ossa ce la fai vai io intanto prendo la carbonella e faccio le torce amami no non ce l'ho fatta così no però ho trovato altro ferro qua perfetto quindi partiamo già bene io allora io mangio una costoletta così un sacco di legno è meglio dai dai io so di legno buona dai 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 brava lì se hai della oak wood qualcosa dammi tre cosi tieni così li metti qua dentro e fanno otto ok effettivamente qua c'è già il cosmo bravo bravo si ho messo un po di carbonara lì ragazzi fate un'altra fornace se volete coscire qualche qualcos'altro perché se non ci si fa io intanto faccio quattro torce numero qua facciamo un'altra fornace la faccio io l'ho fatta io l'ho fatta io allora prima di tutto dobbiamo dobbiamo fare una tecnica ok ok allora adesso dobbiamo andare è pieno di strade da questa parte ragazzi però stiamo attenti prima facciamoci le spade i ragazzi non avevano le spade siamo in caverna io l'ho fatta già la prima cosa che ho fatto aspettiamo di farci quella di ferro sì sì facciamoci la di ferro io ce l'ho già in pietra ok come inizio è buono ok io ho preso un po di strade di ferro in più quindi se lo volete ve lo passo tenete vai dammi che io ne ho uno della legna ne avete altro o no io ne ho io ne ho legna ehm quanto ne hai mi ha dato ali però io 64 più 48 più 36 ma già lavorata ok no perfetto mi ha dato a lui perfetto perfetto i miei stick ok l'ho presi ma se vuoi ne ho ancora c'è un problema sì no vabbè tranquillo tranquillo così basta e avanza tranzollo proprio ok vale un attimo un'esplorazione ragazzi anche se è un po' pericoloso però appunto bisogna farlo quindi vai ti seguo ti seguo si è così mi spingi di sotto perfetto no non siamo con le spalle ok allora qua c'è del ferro quindi intanto prendilo te qua c'è del ferro che non avete visto ok no no tranquillo che ora piano piano si prende tutto qua c'è altro ferro fallo fallo tu cammina con la testa alzata ragazzi qua ci possiamo già prendere cioè già fare l'armatura e forse full iron eh per dire eh già eh sì guarda io qua ne ho trovati sei pezzi più c'erano altri qua che hai preso te qua c'è il cane che più o poi sarà nostro ah scendiamo qua ok tu hai no ce l'ho io niente ok qua c'è altro ferro uh carbonella nice creeper qua c'è un creeper allora mi metto del ferro qui mi faccio una spada in ferro anche io così divento normale come voi e normale come noi cos'è no io ce l'avevo in legno che è in piedi vabbè avete capito più o meno più o meno dai comunque stiamo attenti qui che ci sono gli scheletri è una freccia e poi ciao proprio che ci leva quattro cuori non siamo nella 1.9 eh sì ma una freccia ci leva comunque quattro cuori se non abbiamo l'armatura eh cioè c'è uno slime eh no stai attenta perché quelli lì si sdoppiano poi si fanno male vai via scoperto quelle piccole non fanno male ma in verità si ti levano mezzo cuore però sempre davvero eh ma sono davanti a una cosa di ferro ma 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 andate via raga qua non abbiamo coperto eh e l'arca di evo sta fuori quindi mettiamola più dentro e poi facciamo una sorta di barriera e facciamola subito la barriera che se no di mostrico e infatti allora facciamo così la facciamo così no così ci vanno gli scheletri aiuta ah è vero ok vabbè così va bene così va bene l'importante era coprire quel pezzettino lì allora qua la fornace serve altro carbone ce l'avete eh io ce l'ho 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 io no no perfetto eccolo qua così almeno non si stoppa tutto il processo qui eccomi ok qua un'altra torcia che se no ci guardiamo ora se venite con me e mi aiutate a fermare i mob perché è pieno di ferro giù ok sto dividendo la roba in due fornace aspetta ok perfetto mamma mia troppe fornace eh beh eh beh qua ho ferro ragazzi cominciamo eh metti il ferro lì facciamo il tre fornace così facciamo più velocemente possibile freghiamoci del carbone io ce l'ho di ferro eh facciamo uscire le armature eh ok vai prendi fai intanto per te poi arrivano zombie combattere eh tieni la distanza ovviamente si si ok lo uccido eh dov'è la crafting table mantenendo proprio dell'ultifine che l'ho io non me lo vedo ah se me lo vedo oh cosa la crafting table la crafting ah ce l'ho io tieni ah ok l'avevo presa ma non l'avrei mai messa dentro l'ho fatto un po' sparire ti ha perso tanti cuori davvero davvero ma mio dio oh maxander ragazzi è morto siamo l'unico team che c'ha tutta la vita oh non diciamolo troppo no no però magari ah no marcirà meno un cuore io qui tappa ancora un pochettino ragazzi perché non mi piace molto questa situazione si vai meglio chiudere meglio qua mettiamo una torcia se no ci spano ok appena prendo l'ultimo pezzo di ferro ragazzi così mi faccio un pezzettino d'armatura e subito posso continuare a esplorare almeno si va avanti ah non ho preso uno di troppo chi vuole del ferro l'ho buttato per terra allora poi mi serviva però morto con un pezzo di ferro ho preso un po' di carbone io prendi tutto l'altro ferro tu Pito quasi così mi faccio il corpet eia mi stecchini ok andiamo andiamo allora mi manca un due io so esattamente che cosa sia il branch e quando tu scavi in orizzontale ah ok vieni mettendo l'ultimo pezzo qua oh aspetta 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 c'è un coso c'è un scheletro staci lontano eh infatti qua sotto spostati da lì oh zia aspettate è qua davanti a noi lo vedi ma sono io per l'acqua il ts o qualcosa che si fa non lo so ah io mi ha peccato ragazzi mi ha peccato metano vieni via vieni via vieni via no devo scavare qui ragazzi è tattica è tattica ce la posso fare ok aspetta ali no no ragazzi non state lì non state lì mi ha colpito lo scheletro no no lo scheletro mi ha colpito spostatevi da lì dietro l'ho ucciso l'ho ucciso ah l'hai ucciso sì sì ali l'ho ucciso però lo scheletro mi ha colpito ok io c'ho ancora un pezzettino di cibo e poi è finito ragazzi qua sotto io sono andata prima qua sotto che ho già illuminato c'era pieno di ferro eh sì ovunque c'è del ferro un creeper due creeper due cosi uno scheletro e forse no due scheletri oh mio dio ragazzi il creeper non è un problema poi c'è del ferro sta arrivando sta arrivando no no sbriamoci bisogna andare via da qua oddio ma è pieno di gente sta arrivando sta arrivando c'è anche un creeper avvisatemi aspetta aspetta sta arrivando il coso ragazzi qua c'è un creeper vabbè il creeper qua non è un problema però e andati via da lì ragazzi perché veramente è un problema però c'è del carbone potrebbe servire ne prendo giusto 4 pezzi ok ho ucciso il creeper poi schiappate da lì che c'era ormai il coso che ci aveva visto eh eh poi c'è da questa parte qui qua sotto esatto lì ho già illuminato io prima ed è pieno di ferro ok stiamo andando ancora a questa parte anche poi c'è tantissimo carbone ragazzi perfetto e del ferro vai però ok prendo tutto perfetto la prossima cosa che si fa cos'è con sì il diamante siamo ancora troppo in alto eh eh almeno l'oro cioè perché se aspetta che altezza siamo a proposito eh quanto si vedeva 45 eh 42 io sì vabbè non siamo molto molto in basso vabbè ma nemmeno molto in alto 13 più o meno 15 13 sì una cosa di simile insomma sì ma anche da 18 mi pare da quello che so è da 18 boh io non mi ricordo sicuramente vabbè andiamo da questa parte forse scendeva eh eh io mi devo ancora fare il corpetto eh perché la scale ha trovato oltre tre cuori e mezzo ecco qua c'è un sacco di ferro se qualcuno mi copre vai scella ce la fate ok ragazzi però non abbiamo preso il cibo prima di andare in caverna io ho ancora una costelletta anch'io ho una costelletta eh anch'io ne ho una però il cibo è inutile ti serve solo quando non puoi più correre e beh sai com'è in effetti serve però il cibo eh non per dire però eh ok però solo quando non puoi più correre devi mangiare quindi c'è non è che stiamo facendo la maratona ehm ragazzi aspettate qui c'è lo scheletro non venite eh Alice spostati da lì arriva lo scheletro è caduto uno zombie dall'alto oh mio dio oh gisù mi ha droppato un pezzo di ferro per culo vabbè io mi sto riempendo di ferro tipo mi sta riempendo riempendo più o meno no no non andare lì non andare lì ci provo io oh 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 no mi ha preso oh 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 ok ce l'ho fatta uccidere perfetto mi ha tolto mezzo cuore schifoso ragazzi se ritroviamo il cane ho altri due pezzettini di legno da dargli eh no a me serve un pezzo di ferro arrivano zombie ce la fai un altro con lo zombie si si la faccio piano di zombie poi c'era un pezzo di ferro qui l'avete preso si ok ok tu sei la cerchiamo di correre il meno possibile ragazzi è pieno di zombie che altro di non saltare ce la fai ok perfetto c'è un altro stiamo attenti a non beccarci da di noi ehi fatti questo non ok qua era abbastanza facile ok perfetto vado un attimo avanti controllo prendo il nostro ferro io tu prendi il ferro si si qua c'è un po' enorme ho detto che siamo l'unico team con tutti i cuori abbiamo preso io ve l'ho detto ah ragazzi la lava scende tantissimo dell'oro ragazzi l'oro l'oro perfetto eh però aspetta non abbiamo il piccone eh vabbè si può craftare non è che sia un problema ce l'ha il ferro io no ah ah facciamo prima ricraftarci una crafting delle fornacce c'è anche ragazzi una di quelle spaccature ora non so come si chiama di preciso no aspetta però io ce l'ho 5 di ferro già cotto aspetta mi crafto una crafting perfetto questa caverna è ottima mi crafto il il corpetto così raga ma poi cioè qual è il problema scusate qua c'è il carbone abbiamo una legna possiamo fare tutto eh ma di ferro di ore era solo uno che palle davvero solo uno peccato era solo uno vabbè meglio di niente qua se ne trova altro neanche se è quello il problema beh sì sì c'è un ragno c'è un ragno sopra di te l'hai visto peter no sopra di te davanti lo vedo io da qua no ma come no ma come non lo vedi qua qua davanti no la sopra la sopra sì 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 però qua tanto è aperto quindi sì beh insomma io di ferro per esempio ne ho un sacco anche voi credo quindi tipo il ferro ne ho 6 io ne ho 25 di ferro eh io ho maniato un po' di carne marcia dov'è tipo il come si chiama la crafting ce l'ho io aspetta ce l'ho io aspetta eh no facciamo un'altra ragazzi di fornace non basta esatto la faccio io la faccio io non ho nemmeno i blocchi però in caso tipo dovessi scappare non posso mettermi a riparare da nessuna parte cioè cosa prendi tipo di cobblestone allora sì sì infatti fatti un sacco di lava occhio come eh guarda che la lava è buono perché vuol dire cioè forse lì si va anche intorno a livello 20 eh allora di là c'era altro ferro è pericolosa anzi già già lì siamo al 15 mi sembra quindi è buonissimo ebbè sì perché abbiamo trovato l'oro l'oro e il diamante se non sbaglio sono più o meno allo stesso livello l'oro mi sembra sia intorno a livello 30 una roba simile sì 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 ok però di là c'era altro ferro ci serve ancora il ferro sì credo qua c'è uno di dungeon oh ho trattato un sacco di oro aspetta però è pieno di mob da solo non ce la faccio cos'era? cos'era? ho preso un copo cosa è successo? madonna cos'è Wokicic? con il suono di sto coso cosi e come avevo i suoni al massimo no non ce li ho al massimo ho trattato un sacco di oro comunque ne ho 9 oh ragazzi io voglio andare a controllare il costo di lava sotto ma è troppo pericoloso al massimo aspetta un sacco di oro